Piccolo batto di follo di conto e legge Un VPN praticamente che è c'è un... Il nostro VPN? Sì, ma un VPN in generale Ah, è un sistema di sorveglianza, filtraggio, uno scudo anti-intrusione del tuo... È uno strumento che permette di poter evitare... L'intrusione L'intrusione Nel culo del tuo computer Da parte di malintenzione Ma può darsi anche che questa cosa non sia vera Però quello che dico è che può servire Per cercare di... No? Quando c'è una sorta di movimento poco legale Ok No, il VPN presuppone che tu ne usufruisca per... Un sistema di infrastrutture che ti aiuta Quindi se volete usufruirne... Non ho detto niente Se volete usufruirne... Però il servizio è veramente top Io l'ho provato, non è vero, però è fisso Comunque se volete usufruire un VPN esce il link qui sotto E poi... Backup dati Backup a roba Backup dati Come funziona il VPN? Praticamente te lo scarichi, pigi nel banner Ti portano un sito, ti scarichi il link correlato E ti aiuta a proteggere i dati Se è a posto Deve essere di lusso Deve essere una botte di ferro Non ho letto Guarda, mia mamma è incuriosita Da NordVPN Allora mamma Praticamente NordVPN Ti permette Per esempio Allora, guarda questa penna In questo momento è tappata E non ti permette di scrivere Perché Finché rimane tappata Questa Non può scrivere Ti faccio vedere Guarda Guarda Non scrive Non scrive NordVPN Scaricabile al banner qui sotto O facendo punto esclamativo NordVPN in chat Ti permette Di avere la forza necessaria Per stappare la penna E poter tornare a scrivere Poesie Temi Conti O semplicemente Dei piccoli disegnini Mentre sei al telefono Che bellezza NordVPN Permette questo Dai mi spieghi cos'è NordVPN Allora praticamente Quando ti perché Amore non so cosa è successo Ma hai fatto saltare una lampadina Per un secondo What is NordVPN? It's very simple If you want Simple If you want To Buy A pencil You can go To NordVPN .com Dot com Dot com And you can buy This green pencil On Their site Because They have The most Beautiful Pencils Of All the world Ok Amore Come è cambiata la tua vita Grazie a NordVPN Allora Praticamente Quando Prima io non avevo NordVPN Mi guardavo allo specchio Dicevo Porca troia I miei dati sono Veramente a rischio Porca troia Voglio vedere Shonjune Gumi Su Amazon Prime Video Giappone Ma come cazzo Faccio Poi Grazie al link NordVPN.com Slash Moccia Sono riuscito A uscire Moccia Sono riuscito A uscirne Grazie a NordVPN Comunque L'ho trovato anche voi Nel banner qui sotto O nella chat Ma a cosa serve un VPN? Serve a sentirti Un po' più limpido A cosa serve NordVPN? Eh? A cosa serve NordVPN? Allora Praticamente Quando ti fai un tè La sera Per rilassarti E E non hai più le bustine E ci insuppi le palle Quello È NordVPN Allora Praticamente NordVPN In questo periodo Così incerto Può aiutarti a vedere Amazon Video Giappone Quindi Scagliate Basta Mi avevo rotto il cazzo Inventare storie Vado diretto Ah Che cos'è NordVPN? Allora Praticamente Fate conto di essere in un bosco Un bosco Pieno di alberi Ad ampio fusto Quindi vi impediscono di vedere intorno a voi A un certo punto Per terra Trovate Una Una sorta di strumento Hitech Con scritto NordVPN Ve lo mettete Addosso O in culo Come vi pare E questa cosa Spari Spari Il terrore La paura Eccetera Ecco Quella paura Non esiste più Perché quando sei al computer E hai paura Che ti rubino i dati Come in guerra Ai tempi della guerra Non c'era Ma oggi c'è NordVPN Ad aiutarti Lo scarichi Con il link NordVPN .com Slash mocha O pg bannerino Vi sotto Nonno Nonno E puoi Usufruire Dario che cos'è NordVPN? Allora Fai conto di vedere davanti a te Grazie a Tony Rakes Un grande secchio Un secchio Quel secchio però davanti a te È vuoto Ti avvicini dunque al secchio Vi guardi dentro E dentro al secchio Non c'è niente Mentre te credevi Invece ci fosse qualcosa Ecco Quello Quello È NordVPN Ma cosa vuol dire? Dario mia nonna mi sta chiedendo Insistentemente cos'è NordVPN Ti faccio vedere Spostati un attimo Allora Fai conto Grazie a Sbamlodon Per l'euro Fai conto che tua nonna Ha questo mazzo di carte A un certo punto Tu nonna camminando Fa Oh no Ma di non è possibile Mi sono cascate le carte Da burraco Benissimo In questo caso NordVPN Rappresenta Agnese Che raccoglierà le carte Questo nemmeno Ve la fanculo Le raccoglite ora Tipo Perché Cioè veramente Non le raccoglio Allora NordVPN Sono io che raccoglio le carte Comunque vi ricordo Che potete recuperare Asso in un asso Buono HT Il problema Il problema è che non ci puoi entrare Perché c'è il rischio Che questo tubo Si occluda Quindi NordVPN Ti serve per avere Un tubo più grosso E poter Entrarvi All'interno Cioè NordVPN Come mister muscolo No Che c'è Che c'è qualcuno Che ti può aiutare Sempre Ecco A volte Questa persona Che ti vuole aiutare È NordVPN Spero di essere stato chiaro Sto perdendo Il punto fondamentale Della live Cosa e cosa Vabbè Cosa serve Un NordVPN Allora Praticamente Metti caso Che stai passeggiando Per strada Durante la quarantena E un militare Ti ferma E ti chiede I documenti E ti inizia a fare domande Ecco NordVPN Non serve una sega Perché è giusto E ti metta in galera È incredibile Avete visto Il video Di le schede Questi momenti Sono stati Rubati Dal canale Di Dario Moccia Twitch Se vuoi vedere Nuove clip Iscriviti Al canale Di le schede Se invece Vuoi seguire Le live Beh Non devi far altro Che guardare Tutte le sere Dario Moccia Sul canale Dario Moccia Twitch Andate a fare E' perso 400 spettatori Da Rione Un swing Un swing Un swing Un swing Un Pattie Grazie a tutti